le guerre di religione in francia in germania c'erano cattolici e protestanti poi c'è la pace di augusta e devono vivere in territori diversi in francia ci sono cattolici calvinisti alcune famiglie nobili appoggiano cristiani la famiglia dei guisa e alcune famiglie nobili invece appoggiano i calvinisti detti ugonotti ad esempio la famiglia borbone nasce una guerra civile che poi diventa una vera e propria guerra religiosa la guerra di 36 anni dal 1562 al 1598 di ugonotti giungono a parigi per le nozze di enrico di borbone nel 1572 però i cattolici li massacrano la strage di san bartolomeo quindi massacrano gli ugonotti e ci sono circa 3.000 morti e quindi enrico di borbone diventa re di francia e si converte da ugonotto al cattolicesimo ristabilendo quindi la pace con l'editto di nantes concede la libertà di culto gli ugonotti e per la prima volta in una nazione potevano professarsi due religioni diverse succede al padre carlo quinto felippo secondo rasburgo che in spagna fa sì che le idee protestanti non arrivino diviene il sovrano più potente d'europa avendo la spagna l'america del sud quindi che sono colonie spagnole l'italia i paesi bassi in più si impadronì del portogallo e delle sue colonie quindi america asia e le filippine filippine appunto in suo onore e in suo nome da filippo secondo rasburgo e anche africa per gli spagnoli il pericolo per il cristianesimo erano gli ebrei rimasti dopo la cacciata e i moriscos che sono gli islamici convertiti al cattolicesimo filippo secondo rasburgo li perseguito con una vera e propria guerra e poi li caccia affrontò i pirati alleati dei turchi nel mediterraneo attacca e nebolisce le flotte ottomane a venezia ea cipro i turchi però hanno la meglio nel 1570 proprio a cipro quindi dopo cipro gli stati europei si sentono quindi minacciati da questi turchi e il papa la spagna la repubblica di genova la repubblica di venezia creano la lega santa quindi allestiscono una flotta di 100 galeesse galeazze contro l'impero ottomano lo scontro avvenne all'epanto nel 1571 vinsero i cristiani ma poi l'impero ottomano si riprese nel 1600 i territori conquista creta conquista vienna nel 1683 nel 1700 c'è però la decadenza dell'impero turco quindi nella linea del tempo possiamo vedere che tra il 1562 e 1598 c'è la guerra di religione in francia nel 1572 la strage della notte di san bartolomeo nel 1571 la battaglia di repanto nel 1598 l'editto di nantes